E' stata la gelosia, il movente e la tragica sparatoria avvenuta ieri a Suio Terme in provincia di Latina dove un carabiniere Giuseppe Molinaro ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale recentemente terminata. Il militare in servizio presso la stazione di Carinola in provincia di Caserta da agosto 2022 si trovava in licenza straordinaria per gravi motivi di salute. Di fronte ai carabinieri del comando provinciale di Latina e di Caserta che lo hanno interrogato ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato sottoposto a fermo per omicidio e tentato omicidio. Un incontro ancora tutto da chiarire, forse un litigio scoppiato nel tentativo di fare chiarezza sui rapporti complessi che si intrecciavano tra i tre protagonisti. Il carabinire Giuseppe Molinaro, 56 anni, è stato interrogato fino a notte fonda dopo il fermo per l'omicidio di Giovanni Fidaleo 60 anni direttore dell'hotel Nuova Suia nel sud della provincia di Latina. Davanti ai carabinieri l'uomo ha detto di essere pentito per quanto avvenuto non volevo uccidere nessuno ha ripetuto in lacrime davanti ai colleghi che lo interrogavano per ricostruire la dinamica dei fatti. I colpi mortali però sono stati 4, 3 tra addome e torace, uno sulla mascella destra contro il gestore dell'albergo altri due colpi, uno all'addome, uno all'altezza del seno sinistro contro la donna. Il corpo del gestore dell'albergo è stato trasportato all'ospedale di Castino per l'autopsia che sarà effettuata sabato la donna invece, sottoposta all'intervento chirurgico, è attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma, dove era stata trasportata in elicottero dopo la sparatoria. Le sue parole, quando potrà essere interrogata, saranno determinanti per ricostruire quanto accaduto.